Buon anno cari amici, volevo iniziare il 2019 ricordando una persona, un eroe, che è stato troppo spesso dimenticato e che è stato dimenticato anche in questi giorni. In questi giorni abbiamo letto tutti gli anniversari che cadono nel 2019, i 500 di Leonardo, lo sbarco sulla luna, tutto è stato ricordato tranne Jan Palak. Jan Palak è lo studente cecoslovacco che si diede fuoco a Praga il 19 gennaio del 1969 per protestare contro la normalizzazione della primavera di Praga, contro la repressione della primavera di Praga da parte dei carri armati sovietici. Palak era appunto uno studente, si lasciò un breve biglietto in cui si autodefiniva la torcia umana numero uno e bisogna dire che le reazioni alla sua morte furono le più impensabili, incredibili e grottesche in Europa e soprattutto in Italia dove l'Unità addirittura cercò di farlo passare per un eroe del socialismo, cioè secondo l'Unità Palak si era bruciato per rendere migliore il socialismo ancora più forte e ancora più umano. No, non fu così, Palak era un credente molto fervido e si suicidò pensando ai gesti dei martiri del cristianesimo e si suicidò in nome di un ideale di libertà che ci sentiamo di sottoscrivere. La storia poi è stata cattiva con lui, Palak che fu un vero eroe è stato dimenticato e sulle magliette dei ragazzini è finito quell'assassino di Che Guevara. Noi comunque come prima cosa da ricordare nell'anno vogliamo appunto ricordare Jan Palak e il suo sacrificio.